Buon pomeriggio da Daniele Burigana, della Giovane Italia, in diretta dal Centro Sportivo Green Club di Roma per Lazio Regina, non aggiornata del campionato nazionale under 16. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo la sconfitta per 3-0 nel derby capitolino contro la prima in classifica a Roma. Hanno 13 punti e sono al quarto posto insieme al Bari. Gli ospiti hanno vinto di recente 1-0 contro la Salernitana, hanno 15 punti e sono al terzo posto in classifica. Passiamo ora alle formazioni. Mister Alboni si affida come al solito al 4-3-3 e decide di confermare 10 undicesimi della formazione scesa in campo nella scorsa giornata contro la Roma, l'unico cambio a centrocampo dove Fazio prende il posto di De Martino. Davanti Carbone confermato al centro dell'attacco e ai suoi lati Miconi e Mocci. Anche gli ospiti decidono di affidarsi al 4-3-3. Mister Misiti opera tre cambi rispetto alla scorsa giornata. Guerrisi basso a sinistra per Misefari. Al centro della difesa Greco per lo squalificato Serico, espulso nell'ultima giornata. Ultimo cambio a centrocampo con Pannuccio che prende il posto di Caruso. La prima occasione del match è per la Lazio, arriva al 28esimo del primo tempo. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, Francioli fa una sponda di testa per Carbone che però non impatta bene di testa e rende tutto facile al Lombardo. Dopo 10 minuti ancora la Lazio pericolosa. Dopo una progressione di Miconi, il pallone con una serie di rimpalli termina nebuloso che prova la conclusione dalla distanza e il suo destro è potente ma termina di poco al lato della porta difesa da Lombardo. La partita si sblocca a 5 minuti dal termine del primo tempo. Longo prova a gestire un pallone sulla tre quarti e dopo una serie di rimpalli la sfera arriva a Verón che cambia tutto. A sinistra in direzione di Maesano. Il numero 11 controlla e freddissimo riesce a superare Masi e portare in vantaggio gli ospiti al quarantesimo del primo tempo. 1-0 per la regina. Parte fortissimo la Lazio ad inizio ripresa. Fazio recupera un pallone a metà campo e manda sulla fascia Carbone. Il numero 9 punta l'area di rigore, supera in velocità Greco, entra in l'area col sinistro e la mette dentro. Facile facile per Lorenzo Miconi che segna la rete dell'1-1 al primo minuto della ripresa. Agguanta subito il pareggio la Lazio. La regina riparte dal basso con una rimessa dal fondo. Il passaggio però del difensore Granata è sbagliato. Recupera il pallone il numero 8 Chiu Chiuini che manda largo a destra Miconi. Il numero 11 mette un pallone dentro l'area, chiude l'azione proprio Chiu Chiuini con il destro. Il tiro è potente ma Lombardo nega la gioia del gol al numero 8 Bianco Celeste. Spinge forte la Lazio sulla corsia sinistra con il neo entrato Polito che mette un pallone dentro l'area. A ricevere la sfera è Carbone che si vede rimpallata la conclusione. Arriva allora dalle retrovie Formisano. Anche lui prova la conclusione rimpallata la sfera poi torna a Polito che da due passi si divora il gol del 2-1 al trentesimo del secondo tempo. La regina non resta a guardare e ci prova al trentacinquesimo con una punizione dal limite. Parafioriti va col destro la sfera passa sotto la barriera e Masi attentissimo nega il gol del 2-1 alla regina. Meno di un minuto al termine della gara. Carbone riceve un pallone sulla tre quarti e vede Iencenelli entra in ere di rigore. Il numero 19 appena entrato viene atterrato da Guerrisi. Per il direttore di gara non ci sono dubbi sarà calcio di rigore per la Lazio proprio allo scadere. Sul dischetto si presenta il numero 9 Giovanni Carbone che va con il sinistro. Fulmina Lombardo che non può nulla e porta in vantaggio i suoi con la rete del definitivo 2-1 al termine dei 5 di recupero assegnati al direttore di gara che nel frattempo fischia anche per tre volte e decreta la fine di Lazio-Regina. I padroni di casa recuperano il rimonto all'ultimo minuto. Ottengono anche il sorpasso in classifica con 16 punti al terzo posto insieme al Bari. Scivola al quinto posto la Regina a 15 punti.